Preghi 12 A planimetria ideale disegnando i muri O semplicemente posizionando delle stanze Per poi cambiarne la forma Per rendere la procedura ancora più veloce Posso collocare stanze totalmente arredate E con uno stile particolare Rispettando i gusti tradizionali degli alberghini Sceglierò delle stanze nello stile Della regina Anna d'Inghilterra Quando ridimensiono le stanze Il gioco sposta mobili e muri In modo intelligente Guardate quanto è veloce creare case In The Sims 4 Siccome Maurizio è un topo da biblioteca E un genio Voglio assegnargli uno studio adatto Ai suoi gusti raffinati E ho costruito per l'estroversa Daniela Una sala da pranzo In cui sarà orgogliosa di organizzare una festa In The Sims 4 I muri possono essere impostati Su tre altezze diverse Si possono aggiungere finestre a una stanza Con un semplice clic E posso ritoccarne la posizione su una parete Posso aggiungere nuovi dettagli architettonici Con pochi clic posso modificare un tetto Per dargli la forma desiderata Quindi completarlo con una finitura Ora posso modificare Quando voglio l'altezza delle fondamenta di una casa Ho quasi finito Ma voglio aggiungere qualche tocco finale Delle piante E qui dipingerò il terreno Ecco La casa ha un aspetto magnifico Ora voglio farvi dare un'occhiata A qualche altro angolo del quartiere Questa casa è ideale e conveniente Per un gruppo di coinquilini Che ha appena iniziato a crearsi una vita È possibile perfino spostare Subito un intero edificio Questo sembra un luogo ottimo per un matrimonio E questa casa moderna Offre tanto spazio per una famiglia multigenerazionale Ora torniamo dagli alberghini Si stanno proprio godendo la loro nuova casa Non vedo l'ora di vedere le case che creerete Grazie della visione Grazie